Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Siamo qui oggi con i nostri pronostici di Serie A Fondamentale è anche farci i nostri pronostici di Serie A Come sempre 5 partite e vediamo se farne anche una sesta Comunque le 5 partite che ho scelto sono Spezia-Crotone, Udinese-Torino Poi ci facciamo anche Roma-Bologna, Benevento-Sassuolo E l'ultima anche Sampdoria-Napoli Non perdiamoci in chiacchiere e incominciamo subito Incominciamo da Spezia-Crotone, match cruciale per quanto riguarda l'otta salvezza Crotone che dovesse perdere anche questa partita già così e con un piede e mezzo fuori dalla zona Dalle possibilità di salvarsi, dovesse perdere anche con lo Spezia sarebbe completamente fuori Vi ricordo che l'andata vinse il Crotone 4-1 in casa del Crotone Crotone che viene a 3 sconfitte consecutive Spezia che l'ultima l'ha persa, è una partita molto molto aperta Sono due squadre che sulla carta hanno giocatori di livello abbastanza simili Lo Spezia comunque ha un gioco particolare, è una squadra che ha fatto molti più punti Mi viene in mente i punti fatti a Napoli, i punti fatti in casa contro il Milan Quindi uno Spezia che sicuramente ha una marcia in più rispetto a questo Crotone Credo in una vittoria comunque anche dello Spezia Quindi vi dico tra Spezia e Crotone, vi dico una vittoria dello Spezia, uno secco Prossima partita, Roma-Bologna Occhio ragazzi, è perché la Roma gioca oggi, giovedì 8 alle ore 9 mi sembra contro l'Ajax Quindi secondo me potrà patire non poco questo scontro cruciale in Europa League contro l'Ajax Credo che il Bologna possa fare una buona partita Non penso che il Bologna possa andare a vincere contro la Roma Però credo che un pareggio possa anche strappare la squadra di Mijalvic Che è undicesima, ha quota 34 punti Che l'ultima partita l'ha persa contro l'Inter Facendo comunque un'ottima, un'ottima gara secondo me Per quanto riguarda invece la Roma è settima, quota 51 E nelle ultime tre ha raccolto solo un punticino Lui, il punto che l'ha raccolto, l'ha raccolto nell'ultima giornata Quella giocata contro il Sassuolo per 2-2 Roma che adesso viene un po' lontano del treno Champions League Perché in questo momento dista di 7 punti da un'Atalanta quarta, quota 58 Quindi restare attento alla Roma Se vuole tentare di entrare in Champions League Ed è assolutamente ribattere il Bologna Per me non lo farà, per me finirà X Roma-Bologna Prossima partita Inevitabile anche non farci Sampdoria-Napoli Ok Napoli che viene dalla sconfitta Che ha aperto una ferita E anche bella larga Quella contro la partita persa contro la Juventus Affronterà una Sampdoria decima Questa 36 punti Che comunque sta facendo il suo campionato da metà classifica Non può puntare un settimo posto a un posto in Europa Perché è veramente un'utopia Per le squadre che ci sono sopra Per le squadre che comunque stanno sopra Che sono veramente più forti Però un campionato da metà classifica per la Sampdoria Un campionato perfetto Un campionato che va benissimo 36 punti Comunque nell'ultima partita ha un pareggiato Ha entrato un punticino Comunque muovono quasi costantemente sempre la classifica E quindi va bene Poi quel punto che è arrivato Importante contro il Milan a San Siro Affronterà Sì comunque il Napoli Che viene sì da una sconfitta contro la Juventus Però deve sapere reagire La squadra di Gattuso Che adesso è quinta Quota 56 Con un distacco di 2 punti dall'Atalanta Quarto Di 3 punti dall'Iventus Terza E invece di 4 punti dal Napoli Dal Milan secondo Quindi un Napoli che è dentro Al 90% Al 100% Alla lotta a Champions League Per tenersi aggrappato a questo treno Deve vincere assolutamente contro la Doria Per me lo può fare Sì lo può fare Però con qualche difficoltà Non escludo anche magari un pareggio della Sampdoria Quindi mi gioco un X2 ragazzi Un X2 O pareggio vittoria del Napoli Prossima prossima partita Dovevamo farci anche ragazzi Avevamo detto Benevento Sassuolo Bel match Benevento Sassuolo E' un match che sicuramente Ci può dare buoni spunti Per quanto riguarda La lotta salvezza Per il Benevento Per il Sassuolo Per ripartire dopo la sconfitta Nella gara giocata mercoledì Contro l'Inter In un recupero Dalla ventottesima giornata Sassuolo 9 a quota 40 punti Abbiamo un Benevento 15esimo a quota 30 punti Che viene da due buoni risultati La vittoria Torino contro la Juventus E' l'ultimo il pareggio ottenuto nell'ultima giornata di campionato Benevento quota 30 Sassuolo a quota 40 Credo in una vittoria del Sassuolo E quindi ragazzi in questa partita vi dico due secco Prossima prossima partita Avevo detto Fiorentina Atalanta Non mi ricordo più ragazzi Mi sembra di sì Fiorentina Atalanta E vi dico anche qualcosa su Udinese Torino Che è uno sconto salvezza importante Fiorentina Atalanta bella partita Credo in una vittoria dell'Atalanta Quindi vi dico subito un due secco Atalanta quarta quota 58 Fiorentina che deve stare attenta Che è 14esima quota 30 Veramente la Fiorentina basta poco E viene risucchiata nelle zone basse della classifica Dovesse mai vincere un Torino O comunque anche un Cagliari Accorcerebbe sulla Fiorentina Che è una partita difficilissima sulla carta Quella contro l'Atalanta Che vedo nettamente nettamente favorita Quindi vi dico una vittoria della Dea Udinese Torino Bella partita Cruciale in chiave salvezza Torino 17esimo a quota 24 Che è una partita giocata bene nel derby contro la Juventus Un Torino che sicuramente può fare E dire al suo in questa partita Vedo una partita da X Anche uno 0 a 0 Mi giocarei fossi in voi ragazzi Udinese 12esimo a quota 33 punti Che è una due sconfitte Quindi vorrà pian piano rimettere A qualche punto E portarsi qualche punto a casa Credo in un X Per me possa anche Finire il video Anche volendo risultato esatto 0 a 0 Secondo me Fatemi sapere la vostra Cos'è stato con un commento Cosa ne pensate di questi miei pronostici Pollicione sul video Iscrizione al canale Noi ci becchiamo Un prossimo video Bella ragazzi Noi ci becchiamo Noi ci becchiamo Noi ci becchiamo Noi ci becchi